Vi va una cheesecake? Per me è il limoncello. Io ho il cioccolato. Per me è vegana. Facile, ho preso lezioni di dolci. Ho imparato le ricette dei dolci più famose e le loro golose varianti. In più tanti pratici utensili. Lezioni di dolci, prima uscita con setaccio, solo 1,99 euro.